Da 140 candidati dovranno diventare 30. Parliamo dei nasi, persone ovviamente, che saranno arruolati dalla società individuata dal comune di Arezzo per l'indagine olfattometrica che dovrà stabilire quanto e quali odori molesti si avvertono nelle frazioni del comune di Arezzo di Ponte Acchiani, Battifolle, San Zeno e altre. Le stesse da cui da circa due anni a questa parte molti residenti lamentano i cattivi odori che rendono impossibile la vita all'aperto. L'indagine partirà il 15 di febbraio fino al 15 di agosto, sei mesi, un tempo molto lungo, lamentano i cittadini che si dicono preoccupati di dover passare un'altra estate con il puzzo. La necessità ovviamente di condurre questo studio, questa analisi su un orizzonte temporale ampio è necessario proprio per indagare diverse anche condizioni stagionali e meteoclimatiche, quindi questo è indispensabile. Nel frattempo l'azienda cosa sta facendo? L'azienda innanzitutto, mi premo qui ribadirlo, che l'azienda in tutti questi anni ha subito un sacco di controlli da parte dell'autorità che non hanno riscontrato di fatto nessuna violazione delle norme per cui questa azienda esercita. L'azienda sta esercitando nel pieno rispetto della sua autorizzazione, però essendo, come ho detto mille volte, essendo un'azienda pubblica, noi abbiamo ovviamente tutto l'interesse affinché si individuano le cause e si poi si possano mettere in atto delle azioni per mitigare questo impatto, perché vogliamo tutelare i nostri cittadini, non è vero che non stiamo facendo nulla, ma vogliamo tutelare anche il nostro impianto che è un ambiente pubblico. L'indagine si svolgerà con tempi e modalità ben precise, alcune anche piuttosto curiose, come ad esempio non sentirsi affamati o assetati durante la prova, non utilizzare cosmetici prima della prova e così via. Ultima voce del regolamento, non è consentito entrare nell'impianto oggetto dell'indagine prima dell'esecuzione della prova al fine di evitare contaminazione olfattiva. Ma se io oggi, facciamo il giochino del sé, fossi uno di questi cittadini, come mi chiamate, come mi avvertite che mi devo presentare nel tal giorno, alla tal ora? Perché magari io sono, che ne so, a Firenze e l'odore dopo un'ora sparisce. Allora, innanzitutto, l'analisi è un'analisi che verrà condotta per una durata di sei mesi, quindi ovviamente verrà poi, mi immagino, programmato tutta una serie di orari, di interventi e quindi comunque questi soggetti non è che andranno lì a chiamata o a indicazione dei cittadini, lì saranno comunque giorno e notte, quindi a degli orari prestabiliti e poi dopo faranno delle rilevazioni. E' chiaro che poi il tutto va su un database e verrà fatta un'analisi statistica, verranno incrociate le rilevazioni con i dati metoclimatici, quindi vento, pressione, temperatura, per poi rimettere tutta questa montagna, questa mole di dati all'interno di un modello, di un software numerico, che dovrà in qualche modo poi dopo dare una risposta e costituire anche uno strumento per poi fare delle simulazioni previsionali. Un'indagine definita ridicola dal comitato Aretino Stop Puzzo. E' ridicola perché tutti sappiamo da dove provengono il puzzo. Lo stesso presidente dell'azienda in un post di Facebook dice che emettono emissioni d'origine, quindi tutti lo sanno. Quando abbiamo fatto la visita dell'azienda, siamo entrati dentro le camere di fermentazione, eccetera, e l'odore che abbiamo sentito lì è lo stesso odore preciso che sentiamo nelle nostre case. A fino a 4, 5, 6 chilometri di distanza, io l'ho sentito una volta anche la formacea comunale in zona Campo di Marte, quindi più centro di lì, non si può. E' lo stesso puzzo, più o meno diluito, più o meno forte, però è quello. E poi il puzzo del cassonetto è materiale umido, putrido, marcisciente, cioè un bambino capisce da dove viene, insomma.